A 12 giorni dal termine della presentazione delle liste elettorali verso le elezioni politiche del 25 settembre, lievitano i nuovi nomi papabili di candidatura a un Parlamento che ha spazi ridotti di elegibilità rispetto al passato. Salvo sorprese, nel territorio di Pesorubino il Partito Democratico punta forte sulla deputata uscente Alessia Morani e sul consenso che accompagna il consigliere regionale Andrea Biancani. Si muove anche il centrodestra con Fratelli d'Italia che in attesa dell'ultima parola dei vertici regionali e nazionali del partito sembra aver scelto la rosa dei nomi candidabili da Pesorubino, l'ex sindaco di Piobbico Giorgio Mocchi, il pergolese Antonio Baldelli e i capi gruppo di Pesaro e Fano Daniele Malandrino e Lucia Tarsi. Possibilità che si intersecano ai nomi forti che arrivano da fuori provincia, Lucia Albano, l'assessore Guido Castelli, i consiglieri regionali Carlo Ciccioli e Elena Leonardi. Per la Lega il nome forte resta quello del vicepresidente della regione Mirko Carloni assieme all'assessora Giorgia Latini e al parlamentare Mauro Lucentini. Stefano Marchegiani sembra il nome su cui punta azione, ancora incerta la scelta del Movimento 5 Stelle dove pare plausibile la ricandidatura della senatrice fanese Rossella Coto.